po 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 dai e l'altra dai ragazzi sofferta sofferta fino alla fine ragazzi non c'è ma sto sto morì sto sto morendo sto morendo non ce la faccio più sofferta come non so cosa ragazzi è una cosa incredibile per fortuna che hanno sprecato tantissimo ma ragazzi non so manch'io come ci abbiamo fatto arrivare i rigori nel senso anche noi abbiamo avuto occasioni però tanto si gode intanto si intanto si gode ragazzi che la Spagna dopo Francia e Germania è l'altra nazionale che proprio non li sopporto che mentre giocavamo i tifosi fate olè da casa gli fate gli olè da casa belli seduti mentre guardate non so Danimarca Inghilterra o la finale da casa vi sedete e fate olè oppure giocate a FIFA prendete la Spagna e fate olè con FIFA va bene questi facevano siccome ovviamente hanno dominato a centrocampo perché il centrocampo è stato dominato dalla Spagna olè 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 mamma mia ragazzi una cosa incredibile cioè io veramente avevo paurissima paurissima per i supplementari perché noi eravamo veramente in difficoltà sia di gioco ma anche ragazzi di tenuta fisica infatti Chiesa non ce la faceva più Boenucci ha tenuto duro ma ha giocato Bernardeschi che poi tra l'altro ha tirato un rigore cioè perfetto ragazzi penso che tra i cinque rigori sia quello tirato meglio quello di Bernardeschi quindi immobile altra partita insufficiente perché è stato insufficiente l'unica cosa buona che ha fatto è per il primo gol dell'Italia che è fino a che poi intanto bravissima a ripartire veloce tra Donna Roma Verratti Verratti chi era mi pare Insigne adesso non mi ricordo si Insigne è bravissimo lì comunque o era Chiesa non mi ricordo ma chi cazzi comunque lì ha fatto bravissimo immobile che ha fatto l'unico inserimento decente ok lì bravo immobile l'unica cosa buona della partita un inserimento decente un inserimento decente che ha costretto il giocatore e il difensore avversario a prendere in scivolata dopo il pallone è andato a Chiesa e gran bel gol perché ragazzi l'avevo detto la Spagna ha un grandissimo centrocampo in attacco perché ragazzi l'attacco della Spagna oggi ci ha graziato di brutto cioè Oyarzabal ci ha graziato due volte una volta ha fatto lo stop davanti alla porta ha sbagliato una volta ha cileccato un pallone incredibile di testa davanti alla porta due o tre tiri che li hanno tirati fuori alle stelle cioè Ferran Torres che non ha fatto niente Dani Olba ha fatto benissimo però ragazzi il centrocampo della Spagna forte l'attacco un po' così così la difesa diciamo che soprattutto i due centrali difensivi e anche il portiere perché ogni tanto anche il portiere ha fatto delle cappellate ragazzi i due centrali difensivi tutto l'Europa sono stati criticati e hanno fatto schifo appena Chiesa aveva i due centrali difensivi ha provato a puntarli puntato rientrato tiro boom messa lì 1-0 non ci sono andati manco vicino a prendere quel pallone né il difensore né il portiere quindi l'unica cosa buona di immobile è stato quello basta poi la nostra difesa si è addormentata nel gol preso perché ragazzi erano in due hanno fatto un 1-2 ragazzi che noi eravamo in 4-5 della nostra squadra contro due di loro e ci hanno fatto quello che volevano perché? perché eravamo messi proprio male eravamo messi male e hanno fatto gol all'ottantesimo e da lì poi ragazzi comunque abbiamo solo sofferto però però c'è da dire che noi prima anche dell'1-0 le nostre occasioni le abbiamo avute loro ripeto nel primo tempo c'è stata l'Oreal Zabal che ha cileccato lo stop e un tiro di non mi ricordo chi era fosse Dani Olmo che prima ha tirato è andato addosso Bonucci ha ritirato e ha parlato Donnarumma oltre a quello non è che ha fatto tantissimo dominio al centrocampo però di concreto davanti un tiro in porta e questo pallone è cileccato di l'Oreal Zabal nel secondo tempo hanno fatto un bel po' di più ma anche noi perché quando è entrato Berardi Berardi ha avuto due occasioni solo che ha tirato da schifo ragazzi cioè una ha tirato da sotto le gambe un passaggio praticamente l'altro ha angolato di sinistro malissimo e poi hanno fatto l'1-1 abbiamo avuto un altro paio di occasioni anche noi anche nei supplementari comunque c'è stato sempre ragazzi il dominio della Spagna il pallino del gioco ce l'ha avuto sempre la Spagna dall'inizio alla fine della partita un dominio totale a centrocampo per fortuna che i loro attaccanti hanno sprecato veramente tantissimo tantissimo ragazzi e i loro difensori comunque quando andavano a pressare soprattutto sui centrali non erano granché anche un high-side non hanno fatto delle uscite delle cavolate incredibili abbiamo sofferto siamo andati ai rigori tra l'altro primo rigore sbagliato di Locatelli quindi già lì partivamo male poi grazie a Dani Olmo che tra l'altro i rigori sono stati sbagliati a mio avviso dai migliori della Spagna ovvero Dani Olmo e Morata quindi grazie soprattutto anche a Morata bravo Zizzo che indovina indovina il lato e la ribaltiamo ragazzi l'abbiamo ribaltato i rigori basta andiamo in finale domani incontreremo ragazzi domani incontreremo domani sapremo chi è la squadra nostra avversaria e vorrei dire una cosa ragazzi vorrei dire una cosa perché se non sbaglio fino ad oggi l'Italia l'Italia ha incontrato squadre solo con la maglietta rossa sì perché anche l'Austria non mi ricordavo se l'Austria aveva la maglietta rossa perché ragazzi la Turchia maglietta rossa il Galles ha maglietta rossa la Svizzera ha maglietta rossa poi abbiamo incontrato l'Austria che ho vista adesso perché non ero sicuro completo di casa completo rosso il Belgio che ha una maglietta rossa la Spagna che ha una maglietta rossa dall'altra parte nell'altra semifinale di domani c'è una squadra che ha la maglietta rossa quindi io non dico niente però fino ad oggi in tre Austria in sei partite contro sei squadre diverse abbiamo incontrato sei squadre con la maglietta rossa se tutto vuole che si concluda anche fino all'inizio e alla fine in finale dovrebbe esserci un'altra squadra con la maglietta rossa non dico il nome ma penso che l'abbiamo capito uno è bianco uno è rossa ecco vedremo vedremo anche se l'Inghilterra è la favorita del torneo è forte qua l'Ades è sinistra ma sappiamo che in questo europeo non c'è favorito e non c'è sfavorito perché tutte quante le squadre lottano fino alla fine noi intanto siamo in finale domani ci guarderemo la partita belli nel chilling e niente ragazzi mo vado a rinfrescarmi vado a farmi una doccia vado me butto sotto una fontana da qualche parte e niente ragazzi sempre e solo forza azzurri noi ci vediamo domani con il video del calcio mercato e domani sera vedremo chi sarà la nostra avversaria sempre e solo forza azzurri dai ragazzi siamo in finale dai e